Musica Oh, finalmente è il fine settimana, è dormire Oh, non è il fine settimana, è giovedì Oh no, perché nessuno mi ha svegliato? Au, 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 e ora cado anche dal letto Accidenti, che mattinaccia Ma perché mamma non mi ha svegliato? Mi dà sempre così fastidio la mattina e stamattina? O magari mi ha svegliato e mi sono addormentata Dai Emma, veloce, veloce, una prova, devi farlo Cosa? Tutto? Non ce la farò mai Beh, allora sei noiosa Smettila di dire certe cose a tua sorella, vogliamo fare la colazione, no? Ok Julia, non ho paura Ehi ragazzi, devo andare mamma, grazie per non avermi svegliato Anna, insomma, è da mezz'ora che ti ho svegliata Guardate cosa fai Emma Mangia tutto il buste Emma, puoi smettere, è disgustoso Anna, muoviti, se no arrivi a tardi a scuola Sì, vado Non penso avrei visto questa cosa Emma, Emma Oh, sono già tutti seduti, sono in ritardo di un quarto d'ora Oh, oh, si arrabbieranno Eh, buongiorno, scusate per il ritardo Anna, fugle, il ritardo È possibile? Anna, eccoti finalmente Senti, ma non ti preoccupare, non è arrivato ancora nessuno Oh, meno male, la prof non c'è ancora Oh, sono stata proprio fortunata Pensavo che fosse la mia giornata sfortunata Invece Oh, bambini, buongiorno, sudetevi Oh no, dove vuoi andare col tuo zaino? Eh, non sono arrivata in ritardo E non volevo andare Sono seduta semplicemente qui Ok, bambini, allora Voi avete matematica della signora Zalla Stamattina aveva mal di denti Quindi ora è dal dentista Quindi Quindi fa lezioni a lei? No, 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 no C'è l'ora libera, vero? Per favore, dite che c'è l'ora libera Oh, Ricci Tu, certo, tipico Come dire che abbiamo l'ora libera Anna, mi dispiace Ma devo dare ragione a Ricci Avete un'ora a bocca Però, per favore, rimanete in classe Oh, sì Fantastico Al migliore Davvero? Cosa dovremmo fare in quest'ora? Non ci avete dato niente da fare? Oh, Anna, insomma Avete un'ora libera, ok? Prima delle vacanze E vuoi anche dei compiti? No, fai quello che fanno i bambini Ok E allora cosa facciamo, ragazzi? Possiamo andare fuori a giocare? Ha detto che dobbiamo stare qui Ah, ho un'idea Emma e Julian hanno fatto delle prove per dei test Facciamola anche noi Ok Se non ci vuole troppo faticare Ci sono anch'io Questa idea la trovo fantastica Bene, ragazzi Allora, io e Pia ci penseremo Chi fa la prima prova? Io Dava, sei il primo Oh, ma perché io? Sì, ok Cosa dovrei fare? Molto semplice Vai dal preside E dici che lo ami Dave, preside, preside, Dave Oh, Pia, no Sei seria, Anna No, scordatelo, eh Dai, Dave Forza La capirà, no? Oh, sì Va bene, va bene Ma solo perché Non voglio essere un antipatico Ragazzi Ho deciso Non voglio andare Dai, Dave Oh, ma no Ma, oh Oh Dave È il preside Il preside Dave Oh, sì Va bene, va bene Lo faccio, lo faccio Sennò dicono che Sono un fifone Ciao, Dave C'è ancora qualcosa? Ho da fare? Oh, devo farlo davvero Ma, vabbè Volevo solamente dire una cosa In nome della classe No, in nome mio Vabbè È davvero un istante fantastico E io la amo Provato Oh, oh Oh, grazie, Dave Sì Anch'io ti voglio bene Sì Oh, sì È stato così Imbarazzante Devo dire che Una mattinata così Non è male Oh, Dave Il preside Sono innamorati Oh, pia Lo sai come era intesa, no? E smetti lassù E me la pagherai Dai, forza Tutti in nuova classe Dave ha superato la prova Bene Dave ha superato la prova Quindi ora tu puoi decidere Chi fare il prossimo giro Oh, wow Allora Me la immagino già Oh, sì esatto Pia, pia Tu fai la prossima So anche cosa farti fare Oh, Dave Non devi mica vendicarti, no? E adesso cosa mi fai fare? Lo sai, ora puoi fare quello che vuole Oh, no Dai Proteggimi, no? Non puoi dire qualcosa? Pia Mi dispiace Ma è una prova Non posso farci niente È tutto uguale per tutti Oh, lo so Lo so, lo so, lo so Sai Potrebbe dover bere L'acqua del cesso Ma è disgustoso No, no, no Ho un'idea migliore Una cosa che non le piace Sarebbe Cosa? Se baci John? Cosa? Solo una prova? O cosa? Insomma, non è mica così grave baciarmi Se ho la possibilità Vorrei bere l'acqua del water Ma non baciare lui Dave Non lo so Come una prova Insomma, un po' imbarazzante John, vuoi baciare Pia o no? Ok, ok Ci sono, ci sono Sorry, non mi interessa Se non è Va bene Ok Allora Pia Baccia John Oh, no Spero che ora John Non abbia mangiato poi Le cipolle O l'aglio Posso di sì, vero John? Vabbè, buon divertimento Ok, ok E come facciamo così? Baciarsi? John Basta, basta No, via Basta, basta, basta Ha passato la prova Ho bisogno di una pausa E Dave Me la pagherai Wow Super Fantastico Oh, sì Ok, ok, ok Già Non avrei dovuto mangiarlo Bene Pia è stata bravissima Chi è il prossimo? Eh, Pia Posso io? Emily Sì, sì Certo Prego Allora Ritchie Cosa dovrei fare? Cosa devo fare? Devo bere L'acqua del water? No, no, no No, no, no Allecciarmi le No, no, no Devi fare una cosa Devi dire una cosa molto gentile Ok John Non pensavo fosse male il tuo Baccio Emily Sei molto gentile Ti prendo anche Ti credo che tu sia molto bella Oh, grazie Dave Ok, è un po' difficile Mi piacciono le tue scarpe Luisa I tuoi capelli sono davvero belli E anche il tuo profumo E sono innamorata Eh, ma sì Spero che Emily non l'abbia sentito Vabbè Pia Devo dire che Penso che Sei molto Fantastico Come tu sia Così Una Cattivella Cosa? Anna Insomma sono un po' invidioso Di te di solito Ma mi piaci Come ragazza E sei molto Intelligente Ritchie Devo dire che È stato davvero carino Da parte tua Hai superato la prova Bene E chi c'è come prossimo Ritchie Puoi scegliere qualcuno Tu Anna Ok Va bene Ritchie Posso fare io Dire io una prova Sì Non mi viene in mente niente Pia Vuoi vendicarti con me? Anna Guarda Quanto gesto Che ce l'ha Oh no Non disegnarmi No Non disegnare Però Non hai fatto colazione No? Magari Potresti fare colazione Col gesso Cosa Ma non si mangia mica Il gesso Ah sì Vorrei vederlo Ma La classe ha deciso Per Anna Si mangia Col gesso Ok Lo faccio E Prendo anche Un piatto E delle posate Buon appetito Anna Oh no Perché ho detto di sì Oh E allora? Lo sapevo Eh Sei una fifona Oh no Non farlo Non farlo Non farlo Non mangiare il gesso No Non si mangia Cosa avete detto? Mangiare il gesso? Eh Ciao Prof Pensavo che fosse Dal dentista No no Non voleva mangiare il gesso Voleva solo guardare Se la si può tagliare Coltello E cosa c'è Perché la forchetta E cosa c'è scritto Alla lavagna Dave P.R.C. Anna State facendo Delle prove Di coraggio? Dave Ah ma il preside Devo preoccuparmi Pensavo che Io Sia con lui Eh No no Era solamente uno scherzo Lo so Dave Insomma Ma bambini Il gesso Magari non si mangia E non è un alimento Cosa avete combinato? E inoltre Insomma Qua stava la lavagna E non sul piatto Ok ok Non si preoccupi Mi verrebbe anche Un sacco di mal di denti Poi dovrei andare Dal dentista Proprio come lei Eh Gianna Io non ho mangiato Del gesso Però avevo comunque Mal di denti Quindi bambini Tutti a posto Lezione